Nella sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore allo sport Ciro Borriello hanno incontrato i ragazzi della squadra di calcio a 11 che si sono aggiudicati il campionato allievi regionali della FIGC. I giovani atleti che hanno ricevuto la medaglia della città rappresenteranno la campagna nella successiva fase interregionale che se superata li vedrà in gara per il titolo finale di campione d'Italia nella categoria allievi. Saranno un paio di gare molto importanti, partiremo prima sabato con le semifinali, sarà un girone a tre squadre, poi se tutto andrà bene giocheremo mercoledì la finalissima scudetto. Speriamo di arrivare in fondo a tutto e vincere questo scudetto e portarlo a Napoli dove non è mai arrivato uno scudetto per gli allievi.